Siete ragazzi, guardiamo su questo nuovo video, oggi ragazzi, seconda, terzo video Ok, aspettate, via libera, andiamo Aspetta, non c'è niente, non c'è niente Non c'è niente, non c'è niente Bene, se no ti sfugge qualcosa, sei fatto Dov'è? Ok Vedi le emozioni, ci serviranno Ragazzi, ma è anche questo Dov'è stanno emozioni? Solo questo? Ehi piccoletto Ehi, ma è un bambino Il campo deve essere libero È un pampino Niente soldati o uomini di Robert, ok? Oh, ora sono qui Ci sta aspettando Ho belle emozioni qua Prenderà tutto più interessante Tutto molto interessante Sì Andiamo 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 Forza Vai Vai Ehi, ehi Tess Ehi bellezza, come va oggi? Non adesso però No Ok Ora, capito Ok Va bene Ma non ci bisogna Incazzarsi Spiacente, questi cani sono stati tutti prenotati in meno di un'ora Però tra una settimana Ma non gli voglio i cani Se tu chi compri? Stesso Ma che tempo? Foncina Certo Ma che tempo? Certo Spaccalo il culo Spaccalo il culo Spaccalo dai Spaccalo dai Oh, scatate Pancati Pancati Lasciamo perdere Ok, mio Allora, là giù. Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora. Ci siamo. Oddio, che dobbiamo fare? Dobbiamo combattervi? Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori. Altrimenti ti spacco per la testa di cazzo. Oh. Fa un culo. Brava! Sei pronta? Sì. Ti copro. Trovo il punto migliore. Sei morto. Pronto. Ehi, tu resta! Cazzo, vai. Taggiati. Perfetto, Texas. Ok. Anche tu. Munizio. Come hai fatto? Siamo tutti questi tizi. Robert è bravissimo. Scrive. Sì. Nelle guante munizioni. Dov'è andata? Ehi, la mia figlia. Ma tu stai? Ah, no. Ok. Ah, questa cosa sembra... Quello che i dottori, quello che usano per vederti la coda. Dammi la mano. Dammi la mano. Dammi la mano! Io ancora non ci vedo che sa fare queste cose. Ecco, ho fatto. Ecco. Ok. È diventato un attento... Topo! L'ho detto, stai attento i topi. Ma io stavo ancora qua. Fermo. 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 Allora. Di qua, Joel. Altri della banda di Robert. Ah. Come sai che sta fornitando? Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Oddio. Cristo. Non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Dividiamoci e assicuriamoci che non entri nessuno. Chi l'hai fatta? Ehi, prendetelo! Che mira di merda che... A cagare. Carica, carica. Carica. Ehi, vediamoci che sai fare. Su! Ma va a cagare. Guardiamo in giro. Bella. qualcosa qua dentro ci dovrebbe essere, non c'è un cacchio, perchè, perchè, ok c'è un cacchio, perchè, ok c'è un cacchio c'è un cacchio 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 cacchio